Arturo Da Silva e Stefano Valeriano, due talenti di Latina Scalo al servizio di questo torneo prima edizione. La vostra pressione? Secondo me è un torneo fatto apposta per far unire i giocatori e in qualche modo giocare tra di noi per impararci a giocare. Comunque è una cosa costruttiva. Stimolo per confronto e aggregazione? Sì, appunto. E infatti è un gioco abbastanza fomentato, quindi non so che dire più che altro. Stefano, invece, come è andato l'inizio, l'esordio di questo torneo? Che risultati hai ottenuto? Ancora devo giocare, ora c'è la prima contro un ragazzo. Dico che questo torneo comunque dà l'opportunità soprattutto di conoscere gente nuova e di, diciamo, confrontarci con gente attraverso la Playstation. Quali sono le tue ambizioni in questo torneo? Ma più che altro giocare e divertirmi, più che altro. Non ambisco a niente. Invece Arturo, tu hai trovato difficoltà in questi inizi? Sì, è stato un girone abbastanza difficile. Ho trovato gente brava a giocare contro di me. Ho perso due partite che una la potevo pareggiare oppure una la potevo addirittura vincere. Poi la terza partita ho vinto 5-0 ma il risultato è stato abbastanza inutile poiché non sono passato. Poi la terza partita ho vinto 5-0 ma il risultato è stato abbastanza inutile poiché non sono passato. Poi la terza partita ho vinto 5-0 ma il risultato è stato abbastanza inutile poiché non sono passato.